Aree svantaggiate, approvate due proposte. La Commissione per le aree interne ha approvato due proposte di risoluzione per gli aiuti ai territori interessati. Il rilancio dei programmi dell'accesso, il Corecom della Toscana, ha realizzato un progetto per gli spazi di comunicazione a disposizione di soggetti collettivi sui canali del servizio pubblico. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio. La Commissione aree interne del Consiglio regionale della Toscana ha approvato due proposte di risoluzione sulle aree interne svantaggiate della nostra regione. Proposte che riguardano la fiscalità di vantaggio e il PSR. Ascoltiamo le interviste che abbiamo realizzato. La Commissione aree interne Fratelli d'Italia ha lavorato a modificare questo testo che chiede in sostanza al Governo e al Parlamento di prevedere una fiscalità di vantaggio per le nostre aree interne che, come sapete, non sono poche. Non ci siamo però accontentati di un testo generico, l'ennesimo testo generico, perché l'impegno che chiediamo è anche quello di regione toscana nei confronti diretti delle aree interne. Di fatto la fiscalità è un punto essenziale, per questo la proposta di risoluzione arriva all'unanimità in Consiglio, ma Fratelli d'Italia nel prossimo è seduto e presenterà lo specifico su cui bisogna lavorare, quindi recupero del patrimonio edilizio, la mobilità e la sanità, cioè quei servizi sulle quali è indispensabile poter sigillare non lo spopolamento delle aree montane, ma risorgere delle loro comunità. Noi abbiamo chiesto come Commissione, e lo abbiamo fatto all'unanimità su mia proposta ieri e oggi approvata in Consiglio regionale, che all'interno della riforma del fisco del nostro Paese il Governo introduca fiscalità di vantaggio per le aree interne montane. Noi sappiamo che chi apre un ristorante o un'attività in un territorio montano deve sostenere molti più costi, ma paga le stesse tasse di un'attività nel centro, di un centro città. C'è uno svantaggio competitivo e deve essere però anche noi la consapevolezza che queste attività hanno anche un valore sociale importante. È una richiesta questa che noi vogliamo fare il Governo assieme alle altre regioni, però ora è arrivato il momento, è arrivato il momento che le aree interne appunto vengano fatte oggetto di un intervento che ne contrasterebbe sicuramente lo spopolamento. Noi parliamo spesso dei servizi, ma i servizi si garantiscono solo se c'è, non spopolamento, ma se c'è presenza delle persone su un territorio e quindi creare le condizioni anche dal punto di vista fiscale per sostenere le attività produttive, noi ci dicono non solo gli esperti, ma anche gli amministratori locali, è essenziale. Da oggi inizia la battaglia della Toscana per chiedere in sede nazionale di introdurre questo principio che c'è in alcune regioni a statuto speciale, ad esempio Sicilia e altre regioni del Nord Italia, deve essere esteso anche alle regioni a statuto ordinario del nostro Paese. È un atto importante, le aree interne sono quelle che in questo momento più di altre stanno soffrendo, quindi bene il lavoro fatto dalla Commissione per cercare di dare una misura fiscale a favore di quei territori, molte volte periferici, non solo montani ma anche collinari, ma lontani dalle grandi città che più di altri faticano a trovare livelli di competitività. C'è un atto, ed è evidente dai dati che abbiamo in mano, di spopolamento oggettivo delle periferie urbane, non quelle collegate alle città ma delle realtà rurali, che invece potrebbe andare in controtendenza se rendono incentivanti la possibilità di andare a vivere in quei territori. Andandoci a vivere, quei territori hanno bisogno di servizi nuovi e aggiuntivi. Se non ci sarà questa inversione di tendenza è evidente che la Toscana viaggerà a due velocità, quindi siamo a favore di questa misura. Il percorso è stato, diciamo, affrontato da tutti i commissari, siamo arrivati a questa proposta unanime, votata in Consiglio regionale da tutte le forze politiche. Gli sgravi fiscali sono importanti in queste zone, nelle aree interne, aree insulari, nei comuni di montagna, perché qui ci sono delle attività che rischiano di chiudere e invece noi bisogna tenerle riaperte. Parlo di bar, ristoranti, attività produttive, attività artigianali, in particolare in montagna, le attività che riguardano i lavori nel bosco, perché sono anche queste attività presidi per il territorio e quindi in queste zone dove è difficile vivere, lavorare, studiare, a volte è difficile curarsi e anche le infrastrutture sono spesso carenti, bisogna attuare questa fiscalità di vantaggio, nel senso che queste attività devono pagare meno rispetto a quelle che si trovano nelle altre zone della Toscana, perché i toscani devono essere tutti di serie A. È la strada giusta, sinceramente la montagna ha partorito il topolino, nel senso che quella proposta di risoluzione invita il Parlamento a pensare a sgravi fiscali per le aree interne. Io penso che un organo legislativo, qual è il Consiglio regionale, avrebbe potuto fare molto di più, soprattutto impegnare se stesso a fare delle iniziative in quel senso. Pensiamo per esempio a una tassa di ambito regionale, il bollo auto, il bollo per i mezzi di trasporto. Se avessimo immaginato di sospendere il pagamento del bollo auto per tutti quei mezzi commerciali delle partite IVA che hanno sede legale nelle aree interne, avremmo fatto una cosa sensata e con un'efficacia diretta. Invece così si è invitato a qualche di un altro a fare qualche cos'altro. È il solito giochino del rimandare la palla in calcio d'angolo. Sicuramente è la strada giusta, sicuramente la Regione può intervenire direttamente per anche agevolare la pressione, abbassare la pressione fiscale sulle imprese e su coloro che continuano a fare attività nelle aree interne con iniziative proprie, non chiedendo di fare agli altri. È sicuramente un passaggio in avanti nei confronti delle aree interne che sono penalizzate per una serie di motivi infrastrutturali, di servizi, di beni di prima necessità che da sempre hanno le aree interne, ma non solo, anche le isole hanno. La Commissione Aree Interne cerca di mettere il focus su questo, come abbiamo fatto nella scorsa legislatura con la Commissione Costa, perché si può dire che la Toscana è ovunque bella, un slogan coniato nella precedente legislatura, ma deve essere anche ovunque vivibile, perché i toscani vogliono continuare a abitare interamente la loro Regione, ma devono essere messi in condizione di farlo. Questo banalmente può essere scoraggiato da un'infrastruttura, una strada mancante o disagevole, oppure la mancanza di un presidio sanitario territoriale, anche ad esempio per la pediatria, che scoraggia spesso molte famiglie, ed è una causa che mi sono presa particolarmente a cuore anche per la zona di Volterra, ma anche molte altre, Pitigliano, San Marcello, Pistoiese, proprio perché non esistono cittadini toscani di serie A e di serie B, e questo vale per tutti. Cambiamo argomento, il Corecom della Toscana ha realizzato insieme alla RAI regionale e al Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Firenze, un progetto per il rilancio degli spazi di comunicazione a disposizione di soggetti collettivi sui canali del servizio pubblico. Anche in questo caso ascoltiamo le interviste. Ringrazio il Presidente del Corecom, Enzo Broggi, per questa opportunità. Da quando sono diventato Presidente del Consiglio regionale ho sempre detto che questo deve diventare il luogo per dare voce a chi ha meno voce, quindi bene che oggi ci sia un ulteriore passo avanti insieme all'Università di Firenze, insieme alla RAI, dare più spazio per quelle che sono le trasmissioni di accesso ai gruppi di consumatori, alle associazioni, per cercare di mandare messaggi più chiari, migliori ai cittadini della nostra regione. Una democrazia funziona di più quando ognuno di noi è più consapevole di quello che ha di fronte, di quello che può accadere, quindi ogni qualvolta c'è uno spazio di democrazia in più. Io non posso che essere contento e quindi ringrazio ancora il Presidente Broggi per l'ottimo lavoro che sta svolgendo, ringrazio l'Università di Firenze e la RAI per questa nuova importante opportunità. È un Master che ormai ha una storia lunga, sono 18 anni, questa è la diciottesima edizione, io 18 anni fa ho contribuito insieme a dei colleghi alla nascita proprio di questo spazio. Il Master è cambiato moltissimo negli anni, la possibilità del Master di modificarsi rispetto a un corso di laurea è sicuramente maggiore, noi siamo partiti dal presupposto che in Italia ci sono pochi laureati e che quei laureati che riusciamo a produrre hanno difficoltà a trovare nel mondo del lavoro una coerenza con quello che hanno studiato, col profilo in uscita. Questo vale per il triennio ma vale anche per le lauree di secondo livello. Abbiamo pensato a un Master che fosse professionalizzante, a un Master che oltre a fornire tante conoscenze parlasse di competenze e quindi rendesse questi studenti duttili, versatili e un po' nell'ottica dei liberal studies, di fornire tutta una gamma, tutta una serie di competenze per renderli poi disponibili a quella che sarà la formazione in azienda, la formazione ultima tanto avverrà in azienda e servono comunque oltre alle conoscenze e le competenze per potersi reinventare tutte le volte, per poter rispondere a un mondo sempre più complesso, sempre più dinamico e l'esperienza di questi mesi ci ha fatto capire quanto questa duttività, questa versatilità, questo essere più che formattati disponibili al cambiamento, disponibili a mettere un po' in discussione quella che è la tradizionale, come dire, opposizione tra umanistico e tecnologico, questa specializzazione contro l'interdisciplinarità. Ecco, noi abbiamo pensato a tutto questo, abbiamo provato a rendere ai ragazzi complesse le cose semplici per fargli domandare il perché e come si fanno le cose e lavorare in gruppo. Un'altra cosa che manca spesso da noi, la competizione non è andare insieme nella stessa direzione ma un concorrere per sgomitare l'uno contro l'altro. Ecco, una filosofia opposta a quella del nostro master. Nel 1975 per la riforma della RAI furono programmate questa esperienza molto bella di affidare a associazioni, sindacati, movimenti pacifisti, religiosi, uno spazio pubblico per poter proporre le loro idee, i loro programmi, i loro progetti. Con il passare degli anni questa opportunità si è via via svilita e oggi il programma dell'accesso è uno spazio a disposizione ma estremamente poco qualificante, senza nessun appeal e soprattutto non è visto da nessuno. Allora con la RAI e con l'Università di Firenze abbiamo provato a mettere insieme questo spazio da parte della RAI ma anche l'esperienza di un dipartimento che studia la comunicazione per affidare ai ragazzi un'opportunità per costruire loro i programmi che le associazioni utilizzeranno per le loro comunicazioni. Per cui dal prossimo mese i programmi dell'accesso saranno gestiti dall'Università e tutti coloro che vorranno utilizzarlo potranno utilizzare questo spazio in un modo più dinamico, più comunicativo e più performante. Cambiamo ancora argomento. Il forte aumento del prezzo del metano per autotrazione è al centro della mozione presentata dal gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale prima firmataria la Presidente della Commissione Sviluppo Economico Ilaria Bugetti. L'atto è stato approvato con voto unanime dal Consiglio. Sentiamo. Diciamo che siamo partiti dall'aumento straordinario che è più del doppio. Si parla di 100 euro megawattora rispetto ad un prezzo che era sempre rimasto fra i 20 e i 30 euro dal 2017 ad oggi. Quindi noi consapevoli che la regione toscana non abbia direttamente e probabilmente neanche il governo italiano le leve per poter cambiare la situazione ma come spesso facciamo perché riteniamo sia giusto prendere una posizione politica che arrivi al governo e che arrivi all'Europa così come è accaduto per l'energia elettrica il 18 di ottobre ci sarà un'asta internazionale. La sensibilità con cui l'Europa e il nostro governo si porrà in quell'occasione potrà sicuramente essere determinante. Si sa che una parola di Putin può far oscillare di 20 e 30 punti il prezzo del gasolio a ribasso o a rialzo. Ecco da noi arriva un grido forte anche perché la riflessione che facevamo che è importantissima non solo per le famiglie ma anche per la ripartenza per le imprese l'aumento del costo del gas rischia di vanificare tutti i fondi strutturali e i soldi del PNRR che faticosamente stiamo mettendo a disposizione per la ripartenza e quindi questo sarebbe veramente un aggravio gravissimo. Ci arriva il grido d'allarme dalle associazioni di categoria e noi riteniamo giusto e opportuno prendere una posizione forte. Il Consiglio regionale della Toscana su proposta della Lega ha approvato una mozione che impegna la Giunta ad attivarsi al pari delle organizzazioni sindacali per fare chiarezza sul futuro della Valentino Schus di Levane interessata da un incendio la scorsa primavera. La mozione è stata presentata dal consigliere della Lega Marco Casucci. Ricordiamo tutti l'incendio del 2 aprile scorso. Sappiamo che probabilmente fu dovuto a un errore nello smaltimento delle polveri. Quello che occorre fare è trovare delle soluzioni per i lavoratori perché da quel giorno per numerosi di essi è iniziato un calvario di spostamenti. Noi chiediamo concretamente quali sono le intenzioni dell'azienda, un piano di ricostruzione. Tutto taci. Sappiamo che il 18 di ottobre ci sarà un incontro con i sindacati ed è bene che anche la regione toscana si affianchi alle forze sindacali per fare chiarezza e per svolgere tutta quella attività necessaria per la salvaguarda del pieno livello occupazionale. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio. Grazie per l'attenzione e buona serata.